Dimmi perché non fa entrare un canestro, dimmelo tu Benvenuti ragazzi, eccoci qua tornati in questo nuovo video, siamo di nuovo su NBA 2K15 Amici, oggi andiamo a giocare contro i New Orleans Pelicans e si spera come sempre di vincerne almeno una partita Andremo a vedere, andiamo subito alla partita Eccoci qui, sempre con questa maglietta bianca, abbiamo perso già all'inizio quello che cade per terra, questo che va e fa canestro Finchiamo a me si rompe anche il joystick, guarda, non ci posso credere, come si fa a vincere una partita? Si, no dai, ha girato dentro ed è uscita, non è possibile, non è assolutamente possibile questa cosa Guarda che ha sbagliato, guarda che sta litigando con l'arbitro Avanti, tienilo lì, tienilo lì, dai, vediamo un po' se... No, no, salta, perché non salti, perché non salti, 4-0, bravo, bravo, si, guarda che entra Oh, niente, bloccate, giusto, perché loro sono capaci, noi no, facciamo cagare Guarda, guarda che entra da solo, quello se ne va dall'altra parte Dai, Kobi, attenzione, Kobi Utilizza 2K Smart Play, mo schiaccio tutti i tasti a caso Niente, niente Non entra un canestro, non entra uno Direi una pessima... oh, hanno sbagliato Però ovviamente c'è quello sotto che la prende e fa canestro, invece noi no Noi tiriamo, sbagliamo Guarda che passaggio è, cos'è quello, un passaggio? Kobi, che cavolo stai facendo? Adesso tirano da centrocampo Qualche volta dovrai entrare per forza un tiro del genere Se entra, chiudo qua la serie, basta Avanti, andiamo con questo secondo quarto, siamo già 8-0 Oh, niente, ma vai, ma... Cioè, non so più neanche cosa fare Non so più cosa fare, ragazzi Dai, questo gli entrano anche questi canestri così Ma non è possibile una roba del genere Fuori... ah no, meno male che l'ha presa stavolta, guarda Vediamo se sotto il canestro entra Niente Ah, però abbiamo il fallo, dai Abbiamo il fallo, però... Eh Dimmi perché non fa entrare un canestro Dimmelo tu Vediamo con questo secondo Niente da fare, niente da fare Bravo Come l'ho presa bene, minchia Andiamo incontro a piede, andiamo incontro a piede Andiamo incontro a piede Ah, sì Andiamo, questa è una bella azione Vedete, sto finta, pam Questo vale 50 punti Va a cagare, va Posso anche perdere, attenzione Forse si sono svegliati? No Cavolo, ragazzi Ci sono tanti questi... Tre secondi qua di... Impazzimento Impazzimento, vabbè Ci sono impazziti tutti Salta Perché non salti, testina di vitello Ci sono impazziti tutti, ragazzi Quello che gli fa il... Uoh Stai fuori Ma perché devi uscire? Ma sei capace a stare in piedi? Attenzione Sta scadendo il tempo Mo tira No, no Questo non può farci tutta sta strada da solo Fuori, sì Sì, ma non dare il fallo, eh Ah, ok Intervallo Andiamo con questo terzo o quarto Dai Guardalo lì Bravo Attenzione Lo prova Lo prova Sì E stavolta è entrato Non so come si fa Cioè Come è potuto accadere Però vabbè Buono così Però siamo 14 a 4 Direi che non è una buona... Un buon risultato Dai, attaccalo Chiudilo, chiudilo, chiudilo Che questo è... Buona Che bel recupero Dai, Kobe Corri, corri Porco cane Attenzione Ma no Dovevi tirare tu Ecco fuori No Non ci posso credere Avete visto la palla? Dai Allora c'è qualcosa contro di me qua Quella palla non può fare 10 Buona che ha sbagliato Andiamo in contropiede Dai parti in contropiede Ma perché non corre? Sei già stanco Buona Così No Ovviamente Oh, l'abbiamo presa noi Attenzione Sì E vai Entrata ragazzi 14 a 6 Dai che ce la possiamo fare Dicevo Cioè Non può fare la palla 100 giri dentro al canestro E uscire Dai Impossibile Eccolo qua Attenzione No Non mi ha fatto in tempo A fare il tiro Avanti così Per quest'ultimo minuto Questo ultimo quarto Vediamo se Vabbè Ovviamente È impossibile Recuperare Ormai l'abbiamo persa Però Ah, meno male Bravo che han saltato Stavolta Dai Ogni tanto si svegliano Forse E partiamo Andi un altro piede Sì È entrata E andiamo Dai Andiamo a fare un po' di canestri Così per Così a caso Dai Per gioia nostra Ecco Però ovviamente Poi li prendiamo subito Ormai Da recuperare È impossibile Siamo 18 a 8 E sta per finire Anche questo quarto Cioè La fine della parità Attenzione Questo si fa spazio Niente La prendono loro Vabbè Saltano i miei a caso Ovviamente Senza Prendere palla Attaccalo Poi non li puoi attaccare Minchè Se li ti metti così E li tocchi Fisca il fallo Guarda che ma fa canestro Ovviamente Giusto Bravo Sì I miei complimentoni Dovrei dire Guarda Vai Non si può sbagliare Sti passaggi Mamma mia Guarda quello che cade Ma perché Ma vaffanculo Cosa sto schiacciando Finita Bene Dai Ok Vi direi che Questo video Può finire qua Abbiamo perso 21 a 8 E Vi ringrazio per la visione Anche se Sarà una brutta partita Ma è andata così E mi sa che Anche le altre Le altre 5 partite Andranno così Perché ne mancano 4 o 5 Ed è finito il campionato Bene Ringrazio per la visione Ci vediamo al prossimo video Per una nuova partita